Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi commentiamo a Empoli-Juventus 0-2, la terza gara di campionato per i bianconeri, Juventus che torna a vincere dopo il mezzo passo falso che abbiamo visto fare ai bianconeri contro il Bologna all'Island Stadium. Una Juventus che vince 2-0, rete di Danilo e di Federico Chiesa, una Juventus Corsara comunque a Empoli, una Juventus che ha meritato la vittoria. Vorrei partire da questo principio perché la Juventus ha meritato ampiamente la vittoria. L'Empoli è una delle formazioni più deboli di questa Serie A, per quello che abbiamo visto comunque in queste prime tre giornate, però vorrei partire da questo concetto, Juventus che ha meritato ampiamente di vincere, ha meritato ampiamente i tre punti, per fare comunque una critica nei confronti dei bianconeri. Sempre perché dobbiamo cercare di andare avanti nelle considerazioni, dobbiamo cercare sempre di evolvere il nostro pensiero circa la Juventus e quindi da questo punto di vista, secondo me, possiamo, dobbiamo pretendere qualcosa in più dalla formazione di Massimo Allegri. Intendiamoci, vedendo appunto le statistiche, abbiamo una Juventus che vince 2-0, quindi non di corto muso, una Juventus che non ha mai subito un tiro in porta dall'Empoli, una Juventus che si è vista annullare due gol, due gol che comunque giustamente sono stati annullati, ma nel compito dell'occasione devono essere calcolati, una Juventus che ha colpito anche una traversa e un palo con due giocatori diversi, con Milik e Ken nel secondo tempo, e una Juventus che addirittura ha sbagliato un calcio di vigore con Dusan Vlaovic. Quindi solo menzionando questo e il fatto appunto di aver detto che la Juventus ha vinto 2-0, è chiaro che dobbiamo partire dal fatto che la Juventus ha ampiamente meritato la vittoria. Però perché vorrei criticare un minimo la prestazione della Juventus? Perché secondo me, uno, rispetto alla gara contro l'Udinese non abbiamo assistito a delle migliorie, non abbiamo assistito ad una Juventus che ha giocato sulla falsa riga di quello che abbiamo visto nel primo tempo, specialmente in quel di Udine. Una Juventus che in quel frangente contro l'Udinese nel primo tempo ha espresso fino adesso il miglior calcio per quanto la riguarda da questo inizio di campionato, nelle tre gare che la Juventus ha fatto, quel primo tempo contro l'Udinese è ampiamente il miglior primo tempo, il miglior spezzone di partita fatto dai bianconeri in queste prime tre gare. Questo perché comunque contro l'Empoli abbiamo avuto la sensazione di una Juventus che non ha mai convinto fino in fondo. Una Juventus che sì, magari ha costruito delle occasioni, ma lo ha fatto sempre con delle azioni sporadiche, non come abbiamo visto invece fare alla Juventus contro l'Udinese. Delle azioni programmate, delle azioni studiate, dei movimenti anche tattici molto molto interessanti, invece in questo caso contro l'Empoli abbiamo assistito alla Juventus che in maniera molto semplice ha approfittato del fatto che l'Empoli è veramente poca roba in questo inizio di Serie A e quindi il tasso tecnico è notevolmente superiore e quindi di default la Juventus va a costruire tante occasioni e va appunto a conquistare i tre punti. Però una Juventus che sì, passa in vantaggio con la reddita di Danilo che approfitta di una carambola comunque impazzita in area di rigore, un battere in palli, Danilo lesto più di tutti a mettere la palla alle spalle di Beriscia, però è una Juventus che sfrutta sì una palla inattiva, ma sfrutta anche una carambola impazzita e quindi non è che la Juventus ha fatto un gol di pregevole fattura, cosa che invece era riuscita a fare comunque in quel di Udine. Erano tre gol veramente molto molto belli, quelli della Juventus, con tre azioni comunque studiate. Una di quelle era il rigore, io parlo ovviamente del rigore che si è procurato poi in quel caso la Juventus con la finalizzazione di Vlaovic, il 2-0 contro l'Udinese. Invece qui abbiamo veramente delle azioni molto blande, è una Juventus che comunque fa quello che deve fare, ma lo fa comunque di default, quasi come se fosse appunto la Juventus nettamente superiore all'avversario e quindi va di per sé che deve costruire delle occasioni. Però l'Empoli comunque lo ha messo in difficoltà alla Juventus, non abbiamo mai avuto la sensazione di dominio assoluto. Un Empoli che comunque con qualche cross, con qualche attraversione, aveva comunque impensierito la retroguarda della Juventus, e prima poi del 2-0 fatto in contropiede da Federico Chiesa. Una difesa veramente imbarazzante, quella messa in campo dai Toscani, altissimo al di là della metà campo, e Milik è veramente molto molto bravo a lanciare Chiesa, Chiesa che resiste al fallo del portiere, ma più di tutti vuole trovare la rete, riesce a fare un gol molto molto bello, perché salta il portiere, si rialza perché subisce fallo, e poi comunque trova la rete del 2-0. Una Juventus che, ripeto, si ha costruito delle occasioni, ma ad esempio la traversa di Milik, viene da un cross buttato in the box, così, senza costrutto, da Weah, no che Weah abbia crossato male, ma non c'è appunto un'azione programmata, è un cross in the box, Milik molto bravo di testa, ma è sfortunato in quel frangente, e anche il pallo preso da Ken, poi non è un'azione costruita, è un lancio lungo buttato così, alla disperata, alle spalle della difesa, e Ken è solamente più veloce degli altri, più veloce dei difensori, e quindi ha approfittato del fatto che i difensori del Bologna erano stanchi, lui era fresco, e riesce quindi a trasformare in un palo, quello che in teoria doveva essere, un pallone buttato così. Quindi abbiamo già due legni, che dobbiamo comunque contestualizzare. Il rigore di Dusan Vlovic, è comunque un rigore netto, ma abbiamo avuto in quel caso lì, un possesso parla sterile, un possesso parla molto simile, a quello che abbiamo visto comunque l'anno scorso, una Juventus blanda, lenta nel giro palla, con però l'unico a fare un guizzo, che è appunto è stato Federico Gatti, Gatti in guizzo appunto, va appunto a entrare in area di rigore, c'è questo contatto, rigore secondo me sacrosanto, seppur non un rigore incredibile, ma un rigore comunque che ci può stare, e Vlovic si fa neutralizzare, da comunque Beriscia. Abbiamo avuto poi i gol annullati, ragazzi anche i gol annullati, alla fine sono stati comunque dei gol, ad esempio poniamo il caso quello di Pogba, un cross buttato anche in quel caso, in the box senza costrutto, Vlovic che prova magari a tenere vivo quel pallone, magari vede Pogba e quindi cerca una sponda, ma comunque non c'è un'azione costruita, come abbiamo visto ad esempio contro l'Udinese, quindi una cosa che secondo me deve far riflettere la Juventus, perché questa vittoria secondo me è molto figlia di una prestazione iper deludente dell'Empoli, che è veramente troppo poca roba, una Juventus che non ha mai convinto fino in fondo, non abbiamo avuto quella sensazione di dominio del gioco, di dominio nelle occasioni, seppur comunque ripeto, la Juventus ha calciato 20 volte verso la porta, non tutte e 20 nello specchio, ma comunque ha calciato 20 volte verso la porta, ed è un numero molto importante, però ad esempio secondo me la sensazione sono stati molto più i palloni giocati all'indietro della Juventus, rispetto a quelli giocati in avanti, cercando appunto di fare un calcio propositivo, un calcio offensivo, in tutto questo ripeto, una Juventus che mi è cominciata a piaciuccare un po' di più quando è entrato Cambiaso, ad esempio lì sull'esterno, non che Cossi ci aveva fatto male, però Cambiaso ha quel guizzo di entrare dentro al campo, e quindi già di spadigliare un attimo le carte rispetto al solito modo di giocare della Juventus, ripeto, fino a quel momento lì era palla sugli esterni, e gli esterni poi si inventano la giocata, o Cossi ci fa il cross al centro per Vlaovic, o comunque per l'altro attaccante, che in quel caso lì era chiesa, oppure si continua in questo magari lento giropalla, blando, una vittoria ripeto molto simile a quelle tante vittorie che abbiamo fatto lo scorso anno, contro avversari di medio-bassa classifica, quindi veramente secondo me questa partita qui non deve illuderci, non deve farci emozionare questa vittoria 2-0, rispetto appunto al fatto che fra due settimane abbiamo la Lazio, che è tutta un'altra formazione, è vero, Juventus 7 punti, Lazio 1 punto, Lazio ha 3 punti, però stiamo parlando di una Lazio che è riuscito a battere al Maradona, il Napoli, con un calcio molto molto diverso, quindi io vorrei sempre avere i 7 punti al discapito dei 3, però ripeto vorrei aver vinto questa gara sulla falsarica della vittoria che abbiamo fatto contro l'Udinese, perché poi da lì dovevamo evolverci, quella era la base, ricorderete quello che abbiamo detto in quel video, quella era la base, la Juventus deve giocare così, sempre, e quella deve essere la base, appunto da evolvere, da riempire, un contenitore da riempire nelle gare successive, invece abbiamo avuto contro il Bologna, un veramente bruschissimo passo, due passi indietro rispetto a quella performance, e questa vittoria contro l'Empoli forse è un passo in avanti rispetto alla gara contro il Bologna, ma rimane comunque un passo indietro rispetto alla gara avatta contro l'Udinese, che resta in queste tre gare la miglior vittoria della Juventus, non solo per lo 0-3, ma ovviamente per il livello di performance che ha fatto la Juventus. Io vorrei concentrare tanto sulla performance, sulla prestazione, perché in queste prime giornate, quello che deve entrare nella testa dei giocatori, è la prestazione, è molto importante, almeno nelle prime dieci partite, portare a casa una prestazione di degno valore, perché è chiaro che la prestazione degna, alta, fatta bene in queste prime dieci gare, non può fare altro che diventare vittorie, vittorie nelle altre venti gare, nelle altre trenta gare che rimangono alla chiusura del campionato, quelle devono essere la base, ma se tu parti da una base comunque già confusionaria, già blanda rispetto appunto a questa vittoria, ad esempio, come puoi sperare di progredire in avanti nelle prossime gare? Quindi sì, è una Juventus comunque ancora in costruzione, è una Juventus che ancora deve forse trovare l'undici titolare, però è chiaramente una Juventus che deve fare molto, ma molto più di così, perché sì, da un punto di vista delle azioni, dal punto di vista delle occasioni, dati alla mano, statistiche alla mano, sì, la Juventus ha avvenuto 2-0, e ha costruito veramente tanto, ha meritato, come ho detto prima, la vittoria, però ragazzi, secondo me la Juventus non ha messo giù una prestazione convincente, non mi ha convinto, non è stato uno 0-2 schiacciante sull'avversario, è stato un 2-0, dove per lunghi tratti è stato 0-1, con Empoli in possesso palla, che provava appunto a fare qualcosa, quindi poteva anche essere una di quelle partite maledette, dove tu costruisci tanto, e poi l'Empoli ti va a castigare sull'unico titolo in porta, nel secondo tempo, magari nei minuti finali, perché no, poteva anche essere una partita disgraziatamente simile a tante che abbiamo visto nell'ultimo periodo, quindi veramente un Juventus che deve fare molto più di così, deve essere un contenitore da riempire di tattiche e di azioni, avendo appunto dalla nostra solo Serie A e Coppa Italia, e quindi ragazzi, io non sono per nulla sereno, non sono per nulla convinto, dopo questo 2-0, sono contentissimo per i tre punti, ma la prestazione non mi soddisfa ancora per niente, era stata molto più soddisfacente, ripeto, la vittoria contro l'Udinise, ripeto, fra due settimane abbiamo la Lazio, Lazio è un avversario di grandissimo livello, un avversario che ha giocato un ottimo calcio contro il Napoli al Maradona, ha messo giù la squadra di García nel secondo tempo specialmente, e ha meritato ampiamente la vittoria, però, ripeto, contro la Lazio, contro questa Lazio, tra due settimane, dovremo fare una performance di altro livello, ancora superiore rispetto a quello che abbiamo fatto contro l'Udinise, sono convinto che ce la faremo perché sono due settimane, e quindi voglio sperare, voglio supplicare la Juventus che prepari nella maniera più perfetta possibile la gara contro la squadra di Sarri, perché deve essere il primo big match stagionale della Juventus, ma deve essere la prima vera vittoria convincente della Juventus in questo campionato, ha fatto i 90 minuti veramente ad altissimo livello, quindi ci voglio credere, ci voglio sperare, e voglio appunto tenermi da un lato, sì, bene la classifica, ma voglio comunque di più da parte di questa formazione che può assolutamente fare di più. Per quanto riguarda la formazione titolare, ripeto, molto contento che Gatti ha giocato e Alexandro in panchina, perché Gatti deve assolutamente giocare, un po' meno McKennie titolare rispetto a Weah, perché secondo me McKennie pur facendo qualcosina di buono, comunque è veramente un gradino sotto come livello, come talento rispetto a Timothy Weah, Kossi ci ha fatto il suo, però è veramente un giocatore troppo differente da Cambiaso, e io non riesco ancora a capire come fa uno ad essere l'alternativa all'altro, perché sono due giocatori veramente molto molto diversi. Per quanto riguarda gli attaccanti, bene Vlaovic, per quanto riguarda la fase di rifinitura, per quanto riguarda la fase di venire incontro, sportellate e gioco, è stato veramente molto molto bravo, è migliorato tanto su quel fondamentale, però ad esempio sul rigore sbagliato, secondo me deve essere molto più cinico, molto più cattivo, perché ha tirato un rigore preciso, in quel caso lì devi tirare il rigore potentissimo, preferisco un rigore alla Orsolini, che te la tira sulla traversa, come ha fatto appunto nella gara del Bologna, rispetto appunto a un tiro preciso, ma col portiere che aveva già capito mezz'ora prima, dove il serbo avrebbe calciato. Ragazzi questo era il video, prossimo video sulla Juventus, sulla giornata di domani, dove parleremo appunto di Pogba, perché Pogba purtroppo si è dovuto rifermare, e forse il primo focus stagionale, lo faremo proprio in questa circostanza, parleremo appunto di Paul Pogba. Ragazzi questo era il mio commento sulla Juventus, voglio sapere la vostra però nello specifico, mettere like se questo video vi è piaciuto, e iscrivetevi a questo canale, se non potete perdere nessun altro aggiornamento, sui miei video futuri ragazzi vi saluto, ciao a tutti da domenica versa, ciao a tutti raga!